Amo l'aria aperta! Ops! Quelle zanzare sono enormi! No! Si saldi chi può! Oh no! Zanzare! Prendi il repellente! È orribile! Perché ce ne sono così tante? Finalmente le vacanze estive! Possiamo prepararci per le escursioni? Cosa? Notizie flash! Un tifone! Non è un buon momento! Lei, che succede? Sembra che il campeggio sia cancellato! Oh no! Sogniamo quel viaggio da così tanto! Ehi! Perché siete tristi? C'è un uragano! Vuol dire niente tende e niente campeggio vicino al fuoco! E questo è il problema! Calma! Ho un'idea! Possiamo fare il campeggio a casa! E farlo con il cartone! E la nostra roba! Non abbiamo bisogno di tutto ciò! Serve solo il cartone! Un sacco di cartone! Andiamo! Ehi Emily! Porto il mio zaino! L'ho fatto per niente? Cerchiamo dei materiali da costruzione! Ed ecco il primo ritrovamento! Prendere del cartone da un senza tetto! Oh cavolo! Speriamo che ne valga la pena! Ehi! Perché c'è così freddo qui? Beh! Chissà cosa abbiamo qui! Wow! Un intero magazzino di cartone! Ehi ragazzi! Sbrigatevi e venite! Guardate qui! Ups! Abbiamo un garage pieno di cartone e abbiamo derubato un senza tetto! Restituiamo al povero ragazzo la sua casa di cartone! Ma attenzione che non si svegli! Non se n'è nemmeno accordo! Andiamo! Accambiamoci qui! Oh sì! Già lo immagino! Dovremmo mettere la tenda laggiù! E piante ovunque! Togliamo tutta la roba che non ci servirà! E tutto sarà perfetto! Facciamolo! Quadri al campeggio? No! Mai sentiti! Anche questo tavolo non è adatto! Togliamo tutte queste decorazioni! Non ci serve nulla di tutto ciò! Penso che sia tutto! Ben fatto! Oh sì! Lavoro di squadra! E ora? Ecco un'idea! Penso che questo sia il posto giusto per... Un albero! Voilà! Non è bellissimo! Oh no! Si è trasformata in un albero! Che succede, Penny? Boom! Lei, che fai? Qui c'è l'albero e qui ci sono io! Ma che pensavi? Oh, guarda! È un albero vivo! Boom! Ma cos'ha lei? Ups! Sembra che sia svenuto! Scusa lei! Non sapevamo che fossi così sensibile! Ehi! Stai bene? Fai il solletico! I migliori fioristi di cartone lavorano al campeggio! E lei? Aiuto! Un uccello mi ha attaccato! Oh no! È senza speranza! Lei? Rimetti l'uccello sull'albero! È lì il suo posto! E niente più casini in giro! Ecco! C'è un lavoro anche per te! Oh no! Non questo! Anche se sembra interessante! Fatto! Penso che andrà bene! È pazzesco! Hai un talento naturale! Oh mio Dio! È così bello! È così reale! È fantastico lei! Un albero di Natale in 3D! Non sapevamo che potessi farlo! È fantastico! Guarda qui! È proprio come quello vero! Non si nota la differenza! Penso che dovrebbe stare qui! Wow! Un altro albero! Abbiamo un'intera foresta! Ci si potrebbe perdere! Ma non è giusto! È stata una mia idea! Ma certo! Ci serve una tenda! Penso che di cartone sarà fantastica! Non è una cattiva idea! Ma non credo che possiamo entrarci tutti! So cosa ci serve! Guardate! Wow! C'è un sacco di cartone! Sarà una grande tenda! Va bene squadra! Facciamolo! Bella! È fantastica! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! Sì? Ma ora mi annoio! Hai ragione! Non c'è niente da fare qui! Ehi ragazze! Ma che fate? Penso di sapere come intrattenervi! Davvero? Ma che fai con il mio telefono? Lo vedrai? Wow! Cos'è quello? Stiamo per fare un cielo ostellato! Guardate! Wow! È bellissimo! Oh! Guarda! C'è un'intera costellazione! Oh! Lei cosa faremo senza di te? Ottimo lavoro! Mmm! Queste bacche sono deliziose! Provane una, Penny! Grazie, ma preferisco godermi i fiori! Splendidi! Sono incredibili! Bello! Questo vestito di cartone sta bene! Ai! Cos'è quella? Una zanzara? Ehi! Non toccarmi! Via da me! Ciao! Insetto disgustoso! Oh no! Mi appunto! È terribile! E fa male! Guarda! Che bel cielo! Oh! Wow! Adoro guardare le nuvole! Oh no! Sta iniziando a piovere! Sta diluviando! Oh no! Ci stiamo pure bagnando! Dobbiamo nasconderci! Giusto! Come ho fatto a non pensarci? Impermeabili! Ecco qua! Ora la pioggia non ci darà più fastidio! Hai ragione! È così bello! Proprio come quando eravamo piccoli! Aspetta! Dov'è lei? Era proprio qui! Non so dove si è andato! Oh guarda! C'è un mostro! Dobbiamo andarcene! Indietro! O la vedrai! Ehi! Sono io! Sono solo caduto in un mucchio di rottami di cartone! Non è divertente? Lei sei pazzo! Ci siamo spaventate! Dai! È divertente! Guarda! Credo che abbia smesso di piovere! Evviva il sole! Niente più impermeabili! È così bello! Ma fa troppo caldo! Non esiste! È troppo! La mia testa deve rimanere fresca! Dai cappelli! Ma ho un'idea migliore! C'è uno stagno! Sembra che sia ora di rinfrescarsi! Pronto a tuffarti? Facciamo qualche altra foto! Com'era? Guarda! Cosa ha che non va? Sbrigati! Aiutami! Sono bloccato nel lago! Wow! Ma come hai fatto? Non lo so! Volevo solo farmi una nuotata! Grazie! Cosa farei senza di voi? Eh già! Wow! Ci siamo completamente dimenticati del pranzo! Ma va bene! So cosa fare! È fantastico! Spero che funzioni! Forza! Forza lei! Puoi farcela! Sì! Forte! Ha boccato! Wow! È enorme! Ottimo lavoro! Sarà delizioso! L'avete visto? L'avete visto? L'ho preso io! Sbrigati! Dammelo! Wow! È così scivoloso! Penso che voglia tornare in acqua! E ce n'è un altro! Piccola! Grazie per il pranzo! Ho un po' di legna! Mettiamoci al lavoro! Ehi! Ehi! Guarda! Ne ho trovata dell'altra! Vieni qui! Ci serve un fuoco! È pronto! Lavoro di squadra! È fantastico! Adoro guardare il fuoco! Ma non rilassatevi! Questo pesce non si cucinerà da solo! Ehi! Dove andate? Ok! Penso che possano farcela! Wow! Sembra che siamo pronti a sopravvivere in natura! Che buon profumino! Sarà delizioso! Certo che sì! È ora di pranzo! Meraviglioso! Mangiamo! È delizioso! È fantastico! Sì! Non ho mai mangiato niente di più buono! Colpisci! Colpisci ancora! Chi vincerà? Evviva! Te l'avevo detto! Oh no! Il mio stomaco! Penso che il pesce voglia uscire! Che succede lei? Stiamo giocando qui! Ehi! Ma stai male? Che succede? Penny! Ci servono le medicine! Che strano! Ma che gli succede? Non ne ho idea! È successo così in fretta! Oh! Finalmente! Che sollievo! Non ora! Zanzare! Per favore! Ma dov'è andata? Ehi! Lei! Dove vai? Gli serve aiuto! So cosa fare! Resisti! Le distruggeremo! Forza! Ancora un po'! Ce ne siamo liberati! Ma lei! Perché sei andato nei cespugli? Avevo cose importanti da fare lì! Pazzesco! Sei serio? E il bagno! Voilà! È tutto qui! Già! Non ci avevo pensato! Questo è quello che chiamo campeggio! Abbiamo una tenda, una chitarra e un falò! Bene! Facciamo la foto! Di te! Campeggio! Ti sono piaciute le nostre avventure in casa? Hai mai fatto una vacanza in campeggio? Scrivilo nei commenti! E metti mi piace al video! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Non perdere altri sketch sul campeggio in casa su Troom Troom Select!